Pantaloncini scuri e maglietta gialla, inconfondibile la comitiva che ieri pomeriggio in Fondamenta 9 ha incitato un compagno a sfidare regole e sanzioni oramai definitive a Venezia. Eccolo il predestinato nel video di Roberta De Rossi della nuova Venezia. Impavido il nostro è stato pizzicato mentre si sfila calzoncini e t-shirt. 3-2-1, splash, tuffo quasi perfetto. Ma il tempo del refrigerio è cronometrato e dura quasi quanto l'esibizione dei professionisti in basca. Perché a interrompere di diglio arrivano due agenti della municipale e si sa già come finirà. Tre compagni improvvisano una scaletta per consentire all'amico di risalire in sicurezza. Si dirà i soliti stranieri e invece no a dare spettacolo dei quasi autotoni. La comitiva in gita a Venezia arrivava da Monselice, nel Padovano. Impossibile anche solo pensare che fossero tutti all'oscuro dell'ordinanza ferrea che vieta in maniera categorica di tuffarsi in canale. E non per una mera questione di decoro. E' andata meglio al turista, del quale ignoriamo la provenienza, che sabato si è esibito in ugual modo davanti a Caffarsetti, fronte, canal grande. Le immagini sono di gazzettino.it. Chissà se l'annunciato d'aspo anti-cafonal darà i risultati sperati. Grazie.